Rientrati nelle camerate, i collegiali fanno un'amara scoperta. Dai Chiara, sei lenta! Raga! Non c'è Claudia! Quando ho visto il letto di Claudia senza l'enzuolo ho pensato, finalmente se n'è andata! No, Claudia, no! No! Perché in isolamento? No! No! La sua roba, raga, la sua roba! Stai in isolamento! Spero che non l'abbiano buttata fuori, spero che sia in isolamento. Ma dove sta in isolamento? Sei in palestra! Andiamo a vedere! Raga, raga, ma tanto non cambiamo nulla! Ma almeno andiamo a vedere se c'è o non c'è! E allora andate in due, non andiamo! Vado via! Oh, chi se ne frega! Oh! Mario, fermo! Aspetta! Aspetta! In isolamento! Magari sta là e ha preso le piani decisioni, come magari la decisione già l'ha presa, è inutile! Claudia si è comportata male, però secondo me è presa nella bocca, ciao! Raga, è in isolamento, l'ho vista, è in isolamento! Vado a dirle, raga! È in isolamento! È in isolamento, raga! Adesso siamo un attimo più tranquilli, però una volta che si va in isolamento hai le valigie proprie! more dei buoni pazri! Grazie mille! Grazie a tutti.